Pasolini ha avuto molti processi, con l'occhio di oggi lei pensi che Pasolini era un perseguitato? Ma vede lui andava cercandosi dei guai per la verità, non parla adesso della sua opera ma anche un po' della sua vita spicciola, allora è chiaro che sia stato a mio avviso un po' forzato sia il dargli addosso giudizialmente, in fondo ci sono delle persone di cultura che vanno giudicate dalla storia e dal tempo. Grazie a tutti. 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 molti processi, con l'occhio di oggi lei pensi che Pasolini era un perseguitato? Ma vede lui andava cercandosi dei guai per la verità, non parla adesso della sua opera ma anche un po' della sua vita spizzola, allora è chiaro che sia stato a mio avviso un po' forzato sia il dargli addosso giudizialmente, in fondo ci sono delle persone di cultura che vanno giudicate dalla storia di lui andava cercandosi dei guai per la verità e lui andava cercando di non parla adesso della sua opera, ma anche un po' della sua vita spizzola allora è chiaro che sia stato a mio avviso un po' forzato sia il dargli addosso giudizialmente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti